la nostra colazione con radio alta lo sappiamo oggi è la giornata internazionale dell'infermiere lo abbiamo tra l'altro detto anche ieri abbiamo anticipato ieri questo perché ci tengono i nostri ascoltatori ricorda che la giornata degli infermieri sì lo abbiamo detto tranquilli abbiamo già fatto la nostra trasmissione salutiamo tutti gli operatori sanitari e gli infermieri in particolare allora io qua vedo delle immagini incredibili intanto vedo la pietà di Michelangelo che è una opera pazzesca che avrete visto e qua siamo a Roma qua c'è Roma vedo che c'è Roma poi vedo altre immagini straordinarie della nostra Italia che è bellissima vedo una nave un traghetto quindi non so che cosa abbia fatto credo a Malfi da queste parti c'è la costiera Malfitana stiamo girando l'Italia con lui lo vedo sorridere mi fa piacere do il benvenuto al nostro pedalatore stanco al nostro Vincenzo Cervi Vincenzo dove sei dove ti trovi allora mi trovo a Frascardera e Maratea wow in Calabria che bello posto sì molto e tutto sono arrivato pioveva ma tantissimo stavi dicendo pioveva di bestia dillo stavi dicendo pioveva di bestia sei a sud e piove ma com'è il tempo adesso vedo il cielo un po' coperto sì è tutto nuvoloso ieri ha piovuto ancora così tanto per cambiare oggi mi hanno detto quello di Trevi Meteo che dovrebbe in teoria essere solo nuvoloso oltretutto una novità mi hanno invitato allo stand del Giro d'Italia del Trevi Meteo che arriva qui a Scalea qua a 10 km wow beh allora c'è Paolo Corazzon dovrebbe esserci Paolo Corazzon c'è Paolo no Luca però siccome sappiamo che Paolo Corazzon sta seguendo il Giro d'Italia è probabile che magari tu potresti anche incontrarlo perché stai diventando un caso italiano c'è il pedalatore stanco solo la persona che mi sta seguendo che mi ha detto arriva al Giro d'Italia vai giù allo stand e mi hanno dato il contatto e mi hanno detto di passare oggi e allora mi sfermo un giorno in più e niente vado a vedere il Giro d'Italia eh beh allora fai un giorno di vacanza quantomeno quanti chilometri hai fatto fino adesso Vincenzo? allora dunque se non sbaglio perché ieri ho fatto un girettino da circa 60-70 km di cui sottolineo 20 di salita penso di aver superato i 1900 km eh dai qua siamo quasi 2000 quindi una buona parte dei fatti di questi 7000 te ne mancano ancora 5, 5000 eh quindi senti pendenza 20 km in salita pendenza 6%? pendenza media è il 7% 7% c'è andato le po' oddio ho sbagliato strada e ho fatto sono inciampato in una strada che arrivava al 21% di pendenza caspita questa è la seconda volta però che sbagli strada eh non ho sbagliato strada Vincenzo mi sa che poi alla fine i chilometri saranno 8000 ne farai mille in più di questo passo senti volevo invece commentare con te per chi ci sta seguendo da Bergamo TV un po' le tue le tue foto le tue immagini sono bellissime qua siamo al mare dove siamo qui le vedi tu? eh sì eh dove siamo? riesco a capire ah qua siamo nella zona di dimmi un nome qualunque che ci crediamo Vincenzo mi puoi dire qualsiasi cosa che noi ci crediamo a Salerno 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 tra l'altro ho visto ho visto che hai fatto la costiera amalfitana e e poi Pompei sei stato anche a Pompei Pompei è fantastica io una volta nella vita bisogna vederla è veramente stupenda questo è mi sembrava un po' tipo i Pilomat sì 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 dell'epoca tra l'altro l'ingegneria l'ingegneria stradale di Pompei è qualcosa di incredibile eh dimmi mi ha spiegato che ogni tanto mettevano queste cose qui per creare delle isole pedonali certo 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 e infatti stavo dicendo proprio questo che l'ingegneria stradale a Pompei è qualcosa di incredibile per non far bagnare anche i piedi quando pioveva il passaggio pedonale fra un marciapiede e l'altro a Pompei era con queste pietre rialzate quindi la gente passava su queste pietre e sotto poteva scorrere l'acqua perché non c'erano ancora le fogne all'epoca quindi l'acqua era praticamente a livello chiamiamolo strada asfalto ma non si bagnavano i piedi c'è fatto caso che anche le pietre erano scavate dal passaggio dei carretti lì a Pompei? molto 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 ma la cosa che mi ha colpito che abbiamo perso credo il giorno d'oggi che i marciapiedi allora loro facevano i marciapiedi con un materiale che ho collaudato dal vero quando piove perché quando ero lì ovviamente ha piovuto si asciugano in un attimo come smette di piovere mezz'ora dopo sono asciutti noi l'abbiamo perso quella capacità lì di fare quel materiale probabilmente incredibile bisogna andare nel passato per ritrovare il futuro qui ti stanno facendo i complimenti molti nostri ascoltatori Pompei bellissima tutto vero quello che state dicendo vista già sei volte uai c'è gente che qua l'ha vista sei volte Pompei guarda quello che tu hai detto prima è vero a parte Pompei ma credo tutta l'Italia tu lo stai facendo in bicicletta quindi hai una visione panoramica totale bellissimo cioè stai mangiando l'Italia in questi giorni e sto immaginando la costiera amalfitana fatta in bicicletta una costiera incredibile che dire è bella poi in bicicletta ti fermi ogni curva perché veramente ogni angolo ha una particolarità ecco questa è un pezzo questo è l'inizio della costiera amalfitana è veramente bella poi apro una spesso una lancia a favore di Cederno che ho trovato una città bellissima molto a misura d'uomo e oltretutto posizione veramente strategica da lì il posto più brutto è comunque una scoperta eccezionale veramente è messo logisticamente è messa benissimo guarda stai dicendo delle cose che mi fa molto piacere sentire dire da un bergamasco perché i pregiudizi soprattutto quando si parla sai vai al sud sai che ci sono tante persone che pensano che che il sud d'Italia sia desertico sia una situazione un po' difficile invece scopri poi che invece è tutt'altro tutt'altro per esempio Napoli è una delle città più belle e vi sembrerà strano che io lo dica più pulite d'Italia cioè ma è così ma è così perché se voi andate sul sul lungomare di Napoli dove c'è Castel del Lovo dove dove ci sono i castelli è una zona una delle più belle una delle più eleganti d'Italia quindi bisogna veramente conoscere i posti quindi tu potrai dire a quel punto dovrebbero darti la medaglia quando tu finisci i tuoi 7000 chilometri tu sarai l'italiano vero no? il nostro vice è un po' va vista perché va vista va vista va vista è molto particolare e devo dire anche molto divertente soprattutto dalla parte del traffico ah beh su quello su quello ma anche ma anche qui a Bergamo guarda che non si scherza sul traffico Vincenzo allora ti vedo ti vedo sorridere e la cosa mi fa piacere oggi avrai un giorno di vacanza quindi la tua tappa domani sarà invece? probabilmente arrivo fino a Paola o forse un po' più giù perché faccio un po' fatica a trovare posti per dormire perché campeggi alberghi eccetera qua apre tutto il primo giugno devo vedere cosa trovo però l'idea è di arrivare fino a Paola poi a me piace parlare un po' con la gente mi hanno consigliato diversi posti devo dire qua in Calabria ho trovato persone come un po' da tutte le parti però eccezionali mi hanno consigliato diversi paesi fra i quali diamante aspetta aspetta fermati Vincenzo perché abbiamo queste immagini rallentate con Skype un po' così allora ti abbiamo un po' perso però ecco stavi dicendo che lì trovi l'ospitalità della gente io farei Vincenzo un appello quando vai in giro c'è qualcuno che mi ospita a casa secondo me ti potrebbero anche ospitare no? da quelle parti eh? proverò ecco tu metti la bandierina radio alta siamo lì sta bene sta bene la bicicletta intanto i raggi sono a posto? benissimo ok devo fare un po' di manutenzione ma ordinaria ok ho freni questi qua però tutto a posto va bene senti tu hai detto di Paola ma siamo all'altezza Calabra siamo a metà dove siamo in Calabria? siamo più o meno a metà un po' più giù della metà diciamo che da qui sono circa 90 chilometri ok costeggerai comunque il mare fai la litoranea sì 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 poi da Paola penso di fare Tropea e poi si va a Sicilia in Sicilia va bene va bene ci divertiremo con il nostro Vincenzo fai un bagno anche per noi mi raccomando sorride ma probabilmente non ha sentito ok ok è arrivato è arrivato Vincenzo intanto grazie grazie buon viaggio salutiamo Giussi sta bene Vincenzo tutto a posto la bandierina fammi una foto della bicicletta in riva al mare con la bandierina ok poi me la mandi ciao Vincenzo devo salutare i figli che ormai è più di un mese che non li vedo Ilaria Circo che l'Ilaria che mi supporta con i vari file che gli mando eccetera e Mirko mi sta un po' sostituendo con i lavori un po' di casa anche per fortuna ci sono loro bene Mirko e Ilaria sono i figli di Vincenzo che in realtà io ho sentito l'altro giorno e ho detto che bello papi e via e siamo a posto no sto scherzando ciao Vincenzo ciao ciao buon viaggio ciao